da torre in pietra il compatto degli yogurt il più ghiotto per sapere se il compatto tu prova con le bacchette da torre in pietra il compatto degli yogurt il più ghiotto non capisco dove finisce la yogurt e dove inizia la frutta da torre in pietra il compatto degli yogurt il più ghiotto